... Inauguriamo ufficialmente Scolette 2018. Qui al Castello di San Giorgio, terzo forum internazionale delle donne al governo, nella politica e nell'economia. Esatto, per il terzo anno ci troviamo qui al Castello, che è diventata la nostra casa, grazie all'ospitalità del Comune e alla collaborazione che in questi anni si è molto rafforzata col Comune di San Giorgio. Quest'anno un tema, secondo noi, di grande attualità, il rapporto tra rappresentanza e innovazione, come cambia la rappresentanza e come le donne possono interpretare questo cambiamento. Tre giorni intensi con tantissimi ospiti e decendenze. Sì, abbiamo più di 80 interventi tra relatrici e relatori che si confronteranno su temi diversi, sempre nell'ottica del tema del cambiamento. Oggi iniziamo con una sessione plenaria che presenterà un po' il tema del forum. Domani una giornata molto intensa di seminari paralleli, sia al mattino che al pomeriggio. E sabato mattina di nuovo sessioni plenarie con anche uno degli eventi della rassegna Espolette Off, che riguarderà nello specifico la presentazione di libri di scrittrici del territorio. Lo slogan, se cambiare si può, tentare si deve? Noi siamo convinti che cambiare non solo si possa, ma sia fondamentale e siamo anche molto convinte che insieme ci si riuscirà. Il ruolo della donna in questi ambienti, quindi nell'ambiente della politica e dell'economia, sta cambiando, si sta evolvendo oppure siamo un po' fermi? No, sicuramente se facciamo una panoramica degli ultimi dieci anni le cose sono migliorate molto. La presenza delle donne sia nella politica che nell'economia è cresciuta ed è cresciuta quasi del 100% in termini percentuali. Il problema rimane che è ancora sottorappresentata rispetto alla presenza degli uomini e rispetto soprattutto ai ruoli. Cioè man mano che si sale nel potere la percentuale di donne diminuisce, quindi bisogna lavorare su questo. Sottorappresentata e forse anche sottovalutata per alcuni versi? E noi siamo convinti di questo, è per questo che crediamo che occasioni come il forum di Espelette in cui diamo voce alle donne e stimoliamo il confronto su queste tematiche e il punto di vista delle donne come non centrale o superiore, ma come complementare a tutti gli altri punti di vista sia un modo per superare questa sottostima. Grazie.